ehi la salve a tutti sono theplayer96 bentornati in questo nuovo video che cacchio sto dicendo non lo so in questo nuovo episodio della serie dell'hardcore allora come vedete ho finito di mettere la legna nella casa e ho finito il carbone infatti ho ancora un pezzo di ferro da cuocere ma non posso quindi andremo in caverna ma intanto sti babbuini qua stanno continuando a costruire oh piano che poi ti feri la bua allora vediamo cosa vogliono sti qua aia no non mi son fatto mare strano perché sto laggando minecraft oh tu non sei la signora signora dove sei ah no sei te si allora vediamo cosa vogliono cosa vogliono 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 cobblestone 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 oh lì vedo una bella montagna che adesso mi vado tutta a scavare dai 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 salta te che stai costruendo ah staranno facendo il campo di grano che vedo che hanno ah no c'ha gli alberi quindi starà facendo boh vabbè ragazzi che ci fa un maiale lì su in volo così vabbè allora ciao pecora nera ci prendiamo un po di cobblestone a quanta linea serviva un bel po un bel po non c'è neanche too many items ragazzi perché altrimenti per velocizzare un po le cose oh carbone 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 intanto sta anche venendo notte sta anche venendo notte quindi prendo un po un attimo questa roba poi vado a dormire perché ricordo ragazzi che sono in hardcore se muoio è finito però come mi hanno scritto nei commenti come farò contro i boss che quelli la minimo si muore una decina di volte e scogiterò qualcosa come intanto qua ragazzi è buio io già mi sto cacando sotto finiamo di prendere sto carbone che me ne serve anche molto quanto ce n'è tutto mio tutto dai 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 intanto ragazzi ho fatto anche un piccone in ferro con quello che avevo cotto intanto dalla minimappa vedo un po di pallini rossi quindi devo stare attento a tornare a casa o dove a casa di là facciamo così buttiamoci sotto ma si siamo in hardcore ci suicidiamo e vado a dormire buongiorno a tutti allora abbiamo il carbone mi faccio un po di torce mi faccio un po di torce tipo quattro così perfettico finiamo di cuocere questo ferro e vediamo cosa c'è qua dentro niente allora intanto diamo un attimo qua sopra a vedere quanta cobblestone gli serviva uh c'è uno scorpion vieni chi cosa stanno costruendo sti qua bah vieni qua oh piano 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 non mi avvelenare dai 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 corri il filo il filo il filo ragazzi ci serviva per farci un arco e questi cosa volevano ah ok gli serve un bel po' cominciamo a dargli questa qui che abbiamo perfetto abbiamo anche un soldo d'argento finalmente ogni 64 di bronzo ce ne darà uno d'argento e 64 d'argento uno di oro adesso vediamo qua cosa c'hanno non so cosa siano ragazzi quindi non li comprerò mi son perso dove devo andare la montagna di prima ah chi te l'ha lì minecraft oh è un pollo un pollo mio vieni chi e gli ho rotto un pezzo del campo ma non me ne frega niente perché si arrangiano intanto qui vedo una pecora c'è una capra quel che è muori non far casino e muori allora io per forza ho bisogno di tanta cobblestone quindi mi metto un attimo a scavare e chi me chi ragazzi allora ho distrutto mezza montagna ma mi son fatto due stack da 64 andiamo a venderli a a questi carciofi signora dove sei oh perché c'erano delle torce per terra tanto tu papera muori vabbè lasciamo perdere i misteri di minecraft ragazzi perché se no allora quanta gliene serve un po' ma gli diamo tutta questa così siamo al sicuro perfetto ora dobbiamo soltanto aspettare che costruiscano intanto torniamo a casa torniamo a casa e vediamo intanto lascio ciò che non mi serve e vediamo se posso fare l'arco perfetto perfetto lasciamo questa roba che non ci serve mettiamo a cuocere sti polli allora vediamo qua cosa c'è abbiamo queste da cuocere carbone ah e chitalo lì facciamo così intanto vediamo l'arco 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 non ricordo mai come si crafta perché ho lasciato tutti questi perché ne ho presi quattro allora si dovrebbe fare così così si ragazzi ce l'ho fatta non ci credo allora mettiamo via ciò che non ci serve ci mettiamo questa qua questo così perfetto intanto ci prendiamo questi polli dai dai qua citi qua citi allora cosa posso fare cosa posso fare uccidere questa pecora sì perfetto intanto mi sto preoccupando perché quelli del villaggio si stanno sempre più avvicinando alla mia casa non vorrei che me la battessero intanto la vedo che sono sponati degli alberi appena adesso e me li vado a rubare sì sì ho bisogno di legna e mi rubo i loro alberi intanto loro hanno gli alberelli infiniti poi questa è anche la 1.2.3 quindi non c'è differenza tra legno bianco e legno normale devo fare veloce prima che arrivi eccolo è già qua vede che gli sto abbattendo mezza cosa e mi vuole uccidere allora vediamo cosa se hanno richiesto qualche altro nuovo materiale intanto dove sono finito qua non lo so io mi rubo anche quest'altra coltivazione quante ne hanno eh quanta legna ragazzi quanta legna quanta legna dai dai buttiamo giù tutti sti alberi perfetto te lì ripianti te perché io non ho voglia coniglio vieni qua vieni qua ciao banni sì adesso abbiamo anche il coniglio oh oh che cacchio hanno fatto qua ah ecco ragazzi cosa stanno costruendo con la pietra che abbiamo portato stanno allargando il municipio ci passo sì no dall'altra parte no non vogliono niente perfetto allora direi di ritornare ancora a casa aia che botta che legupre non so perché ci sono tutte ste pecore davanti a casa muori qua devo far veloce se non mi muore il coniglio no ecco stai qua oh mettiamo via tutta sta roba intanto il coniglio sta già scappando praticamente trasformiamo questa legna qua e il resto ce la teniamo da parte perfetto allora questa la mettiamo ne lasciamo un po' qui a casa e direi di fare un'altra cesta sì sì facciamo subito la faccio da qua che faccio prima no cosa sto facendo allora la mettiamo qui sopra e direi di dividere i minerali dal resto oh qua c'è altro togliamo anche questo perfetto mettiamoli qui ottimo poi dovrei fare ancora un'altra cesta per metterci le cose della magia però però la facciamo subito ho l'ecrafto sempre da qua che si fa molto prima perché ce ne sono due vabbè la mettiamo qua e ci mettiamo questi perfetto ragazzi allora direi che anche per questo episodio è tutto da ThePlayer96 è tutto ciao a tutti